Processato per direttissima e condannato a sei mesi, pena sospesa, con l'accusa di violenza privata. Un 35enne senza fissa dimora, originario del Togo, è stato arrestato dai carabinieri di Vigo d'Arzere dopo un breve inseguimento per aver aggredito una donna di 79 anni con problemi di salute che stava attendendo il marito di un anno più giovane impegnato in un prelievo allo sportello dell'ufficio postale di Villanova di Campo San Piero. L'uomo aveva bussato al vetro della vettura trascinando violentemente a terra prima l'anziana e poi il marito giunto in suo soccorso salendo a bordo della stessa vettura. Solo l'intervento di un passante ha costretto l'uomo alla fuga che però è durata poco.